Contraffazione, e sicurezza prodotti, Guardia di Finanza di Pavia sequestra 30.000 giocattoli, dispositivi medici non sicuri e 3,5 tonnellate di botti. Sequestrati circa 30.000 articoli tra giocattoli e dispositivi medici potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, in quanto privi della marcatura C, ovvero riportanti la stessa marcatura contraffatta. Alcuni dei prodotti sequestrati, inoltre, riportavano indicazioni ingannevoli di origine italiana pur essendo prodotti in Cina, ad aggravare la situazione presentatasi agli occhi dei finanzieri e all'atto dell'accesso presso l'esercizio commerciale, sito nel pavese, la scoperta di un deposito clandestino in cui erano illecitamente stoccate oltre 3,5 tonnellate di materiale pirotecnico. Anche il materiale esplodente veniva sottoposto a sequestro, atteso il grave pericolo per l'incolumità pubblica che ne poteva derivare in caso di innesco accidentale. All'esito delle attività ispettive, l'amministratore della società è stato denunciato a piede libero per detenzione illecita di materiale esplodente, frode in commercio e falsità di certificazioni di conformità.